Musica Mal tempo, danni in tutta la provincia di Salerno, ad Auletta cade albero davanti alla scuola. Sanità, l'ospedale Luigi Curto in ripresa, Mandia non ci fermiamo, c'è ancora tanto da fare. Salerno, spaccio di droga a Pagani, sgominato il clan, questa mattina la conferenza stampa. Salerno ad un anno dall'inaugurazione, numeri importanti per la filiale della Banca Montepruno, il sole 24 ore premia il lavoro dell'istituto di credito. Sport, calcio, il punto sui campionati di prima e seconda categoria. Buonasera, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. Apriamo con il maltempo che non ha risparmiato neanche la provincia di Salerno colpendo tutta l'Italia. Strade allagate, alberi sradicate, linee telefoniche in tilt ma per fortuna solo tanta paura. Giuseppe Promolla. Era una giornata da bollettino rosso, lo aveva annunciato la protezione civile nei giorni scorsi e così è stato. Raffiche di vento e temporali hanno interessato tutta la provincia di Salerno e non solo, provocandone un pochi disagi. Nell'area del basso Tanagro, Vallo di Diano, strade allegate, alberi sradicati e linee telefoniche in tilt nella giornata di ieri, con picchi importanti a partire dalle 17. In particolare, ad Auletta, intorno alle 16.30, un forte boato ha attirato l'attenzione di molti. Nel piazzale antistante e le scuole medie, un albero di grandi dimensioni è caduto. La segnalazione al sindaco ha portato sul posto subito una ditta specializzata nel taglio di arbusti, mentre gli alunni, in classe per il tempo prolungato, sono stati fatti uscire dalla porta di sicurezza, posta dall'altra parte della struttura. Disagi sempre da Auletta sulla strada regionale 94A, che porta in contrada ponte con alberi caduti, ma in questo caso prontamente intervenuti gli operai della comunità montana. Il forte vento ha provocato danni anche a Caggiano e Teggiano, dove due pali della luce sono caduti, allagamenti in strada e nelle abitazioni in diversi comuni, da Polla a San Pietro al Tanagro, passando per Sala Consilina e Teggiano. Difficoltà inoltre lungo le principali arterie del territorio, con l'acqua che ha letteralmente trasformato l'asfalto in un lago. Per fortuna, nonostante i disagi, nessun incidente grave si è verificato. E a causa del maltempo delle intense piogge, due cuccioli sono rimasti intrappolati su un isolotto, posto al centro del fiume Tanagro a Polla, a salvarli un rapido intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Salvati due piccoli cuccioli di cane rimasti intrappolati tra la vegetazione che si è sviluppata nel fiume Tanagro a Polla, grazie ad un tempestivo e preciso intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e del nucleo speleo alpino fluviale dei caschi rossi. Probabilmente a causa delle intense piogge, due cagnolini sono stati ritrovati su un isolotto costituito prevalentemente da vegetazione alta. Difficile, se non impossibile, il recupero a causa anche dell'acqua alta e della corrente del fiume. Solo il tempestivo intervento degli uomini del caposquadro esperto dei vigili del fuoco Eugenio Siena e del caposquadro Ernesto Bruno ha consentito il recupero dei cuccioli impauriti per metterli al sicuro. I caschi rossi di Sala Consilina, visti anche le condizioni del fiume, si sono avvalsi nelle operazioni di recupero dei cuccioli degli esperti operatori del nucleo SAF, il cui intervento è stato richiesto alla centrale di Salerno, che giunti a Polla, utilizzando un gombone, hanno raggiunto l'isolotto in cui erano rimasti intrappolati i due cagnolini e sono riusciti a recuperarli e a metterli in salvo. Un lavoro di grande meticolosità, ma anche celere dei caschi rossi con notevole sollievo per le tante persone accorse sul posto, dove si udiva forte il lamento dei piccoli cagnolini, placatosi solo all'arrivo dei soccorritori. Passiamo alla sanità. La nuova TAC segge l'arrivo del laser a Decimeria ed anticipa invece la prossima installazione del nuovo mammografo. Sono solo i primi segnali di ripresa per un potenziamento dell'ospedale Luigi Curto di Polla, intorno al quale c'è però ancora tanto da fare. Vediamo. Dopo anni di difficoltà vissuta dall'ospedale Luigi Curto di Polla, con notizie che parlavano di continue carenze di personale, ma anche di problematiche legate all'effettuazione di esami diagnostici per inoperatività delle apparecchiature, pare che finalmente qualcosa si stia muovendo in senso positivo. Nonostante quanto lamentato nei giorni scorsi dalle sigle sindacali e dal Comitato Curo per la mancata effettuazione del piano ospedaliero previsto dalla Regione Campania e per la lentezza nell'attuazione dei progetti previsti per l'ex struttura ospedaliera di Sant'Arsenio, per il Luigi Curto iniziano ad intravedersi alcuni risultati. Per il dottor Luigi Mandia, direttore sanitario dell'ospedale Luigi Curto, le novità legate all'arrivo delle nuove apparecchiature, il laser adecimeri e la nuova TAC e presto il nuovo mammografo, è solo un primo passo verso un servizio sanitario efficiente. Tanto ancora si può fare. Oltre alla TAC prevediamo in tempi abbastanza brevi l'installazione di un nuovo mammografo, il mammografo digitale, che ci consentirà di praticare lo screening qui a Polla per, credo, migliaia delle nostre donne in maniera tale che per una patologia così importante, quale il tumore della mammella, noi riusciremo anche qui a dare risposte avanzate. Ovviamente non ci fermiamo, non c'è la voglia di fermarci perché crediamo nel lavoro e nella necessità, soprattutto in questo momento difficile e di preoccupazione per tutti, di dare risposte alla gente in chiave e in campo sanitario perché la salute resta sempre bene e più preziosa. Anche le difficoltà legate alla carenza di personale sembrano in via di risoluzione. Negli anni e nei mesi scorsi non sono mancate le polemiche in tal senso. Medici ed infermieri si trovavano spesso costretti a dover affrontare turni massacranti per riuscire a garantire la piena operatività dei diversi reparti. Anche in questo caso ci sono novità importanti, seppur non risolutive. Sì, finalmente dopo anni qualche unità comincia a venire a polla, qualche unità sia in chiave infermieristica che in chiave medica. È ovvio che non riusciamo a soddisfare le carenze indotte da decine di anni di, come dire, collocazioni in crescenza, di trasferimenti verso città un poco più centrali, di personale medico che ci hanno visti veramente depauperati. Però pian pianino stiamo riuscendo a colmare le carenze per lo meno per quello che ci serve. La cronaca, un giovane 24enne operaio incensurato di Sassano è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane intercettato dai carabinieri di Buonabitacolo nei pressi di Atena Lucana ha lanciato una busta dall'auto e i militari sono riusciti a fermarli e a recuperare la busta all'interno del quale erano contenuti 20 dosi di eroina. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Una banda che spacciava droga nell'area dell'agronocerino è stata sgominata dalla DDA di Salerno. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso della conferenza stampa. C'era il figlio del defunto boss Giuseppe Olivieri alla guida dell'Associazione per il traffico di sostanze stupefacenti a Pagani, sgominata alle prime luci del giorno dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della tenenza di Pagani. Sei componenti del gruppo sono accusati di essere alla guida della banda che spacciava droga e sono finiti in carcere, mentre per altre cinque persone sono scattati gli arresti domiciliari. Ma per i carabinieri ci sono coinvolte in tutta l'attività di spaccio almeno altre 20 persone. Il mercato in particolare di cocaina e marijuana aveva come base di riferimento il quartiere di Lamia a Pagani. Durante le indagini, inizialmente coordinate dalla procura di Nocera Inferiore e poi passate sotto la guida della direzione distrettuale antimafia, I carabinieri hanno contato almeno 100 episodi di cessione di dosi documentate con intercettazioni telefoniche e videoriprise ai militari. Hanno anche effettuato 17 perquisizioni domiciliari. Non è lontano dalla realtà quello che chiede lei, che comunica. Effettivamente il controllo del territorio di questa organizzazione era fatto in modo capillare, e in modo quasi militare, nel senso che è documentata la presenza di vedette, di linguaggi gergali per avvisare dell'arrivo delle forze di polizia sul territorio, alla parire dei quali praticamente l'attività di spaccio cessava immediatamente, con anticipo, perché ci si serviva appunto di questo sistema di vedette. Anche l'individuazione e il controllo di questa via, che poi era la via Manzoni del quartiere Lamia, e l'occultamento dello stupefacente in specifici imboschi, regole precise di non detenere mai sulla persona quantitativi maggiori rispetto a una dose, per poter sempre giustificare la detenzione della sostanza come uso personale, consentono di dire che insomma il copione è quello utilizzato da organizzazioni anche che erano presenti e presidiano altre città, il copoluogo della regione evidentemente. Quindi il quartiere Lamia era arrivato ad essere simile, certamente con dimensioni minori, a quello che accadeva un po' di anni fa, per secondi gli anni. Certamente tutto ciò è allarmante, il quartiere è un quartiere sicuramente dove l'attività di spaccio costituisce o meglio costituiva poi l'unica fonte di sostentamento evidentemente da parte dei familiari, dei componenti di queste organizzazioni e come dice lei comunque il dato è notevolmente preoccupante, sensibilmente preoccupante, decisamente. Vabbè sicuramente anche l'operazione di stamattina fatta nella Crono Cerno Sannese testimonia ancora una volta della necessità dell'impegno preventivo e repressivo da parte delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria per combattere il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Anche la cronaca nazionale ci porta sistematicamente alla ribalta di questa problematica così seria. Settimana scorsa abbiamo operato nel territorio di Sala Consilina con la procura di Nago Negro ed è stata un'attività anche lì molto proficua e ha fatto capire di come il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti a partire dall'approvvigionamento che può arrivare anche da, che viene normalmente da altre aree, sia un fenomeno globalizzato soprattutto. Ecco per noi è necessario continuare su questa strada. Quindi anche oggi la dimostrazione dell'aderenza sul territorio da parte delle minori unità dei carabinieri come può essere la stazione o la tenenza ci testimonia ancora una volta della necessità del contatto col territorio. Avendo il contatto col territorio riusciamo ad acquisire notizie e affronteggiare meglio questi fenomeni. Abusi edilizi nel Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I carabinieri di Camerota in località Politicchio hanno scoperto delle opere realizzate in maniera abusiva. Si tratta di opere di finitura, tompagnatura perimetrale, intonacature, installazione di infissi, realizzazione degli impianti, della tramezzatura e posa in opera della pavimentazione. I lavori sono stati realizzati su un manufatto abusivo, un fabbricato su due livelli. Mancava il necessario nulla a osta da parte dell'ente Parco che quindi ne ha ordinato la demolizione entro 90 giorni. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Il sole 24 ore arriva il riconoscimento per il lavoro svolto in appena un anno dall'arrivo a Salerno della Banca Montepruno. L'istituto di credito diretto da Michele Albanese, protagonista del noto quotidiano economico nazionale in edicola questa mattina per i numeri raggiunti con la filiale di Via Settimio Mobilio. La Banca Montepruno tra le realtà di successo della campagna per il noto importante quotidiano economico il sole 24 ore. In particolare sono i numeri della filiale di Salerno ad un anno esatto dall'inaugurazione della sede di Via Settimio Mobilio ad aver strappato l'interesse del quotidiano, giudicandosi con merito un articolo appositamente dedicato in cui sono anche stati presentati i numeri della filiale dei primi 12 mesi di presenza nella città di Salerno. Partendo dal ricordo del 9 ottobre del 2017, quando il direttore generale Michele Albanese e la presidente Anna Miscia con il taglio del nastro aprirono ufficialmente le porte della Banca Montepruno e della politica dell'ascorto che ha sempre caratterizzato le azioni dell'istituto di credito, l'articolista del sole 24 ore cerca di mettere in evidenza i punti forti della filiale diretta dal fiero albanese con il supporto per le relazioni commerciali di Enzo Canoro. L'ingrediente fondamentale che ha portato al successo della Banca Montepruno anche su un territorio che poteva sembrare difficile da conquistare anche per il sole 24 ore è l'attenzione alla vicinanza che l'istituto di credito diretto da Michele Albanese manifesta verso la propria clientela. Il successo ottenuto in un solo anno, si legge infatti sull'articolo, ha permesso all'istituto di credito cooperativo di acquisire importanti quote di mercato avviando un percorso di vicinanza all'economia territoriale e alle iniziative di carattere sociale e culturale. In un anno dal suo arrivo a Salerno la Banca Montepruno può già vantare numeri come 40 milioni di depositi e 30 milioni di finanziamenti che come ribadito e certificato dall'autorevole quotidiano economico dimostrano una grande e attenta vicinanza alle imprese e alle famiglie. Il successo della Banca Montepruno, il suo modus operandi e l'attenzione verso la clientela ancora una volta ottiene un riconoscimento a livello nazionale e arriva da un autorevole quotidiano che certifica come essere vicini alle reali esigenze dei territori è una politica che premia indipendentemente se si tratta di aree periferiche e piccole oppure di grandi centri economici. Il bisogno di essere ascoltati è uguale ed essere capaci di ascoltare può portare a raggiungere risultati impensabili e a realizzare sogni che sembrano irrealizzabili. Ieri a Roma si è tenuto un altro incontro per discutere della strategia nazionale per le aree interne a rappresentare il Vallo di Diano. C'era il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio in sostituzione del presidente della comunità montana Vallo di Diano Raffaele Accetta impossibilitato ad intervenire. A Roma si continua a parlare della strategia nazionale per le aree interne. L'ultimo incontro sul tema in ordine di tempo si è tenuto ieri mattina presso Palazzo Chigi. Sindaci provenienti da aree interne del nord, centro e sud Italia hanno messo a confronto le proprie esperienze alla presenza del ministro per il sud Barbara Lezzi, del delegato Anci alle aree interne Matteo Bianchi e del presidente dell'IFE, Guido Castelli. A rappresentare il Vallo di Diano c'era il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio. Un'occasione l'ha definita davvero molto interessante per esporre lo strumento di pianificazione territoriale della strategia Vallo di Diano. Un ringraziamento particolare a Raffaele Accetta per avermi individuato quale rappresentante territoriale. Nel corso del suo intervento, partendo dal sottolineare quale grande occasione sia per questo territorio che per la prima volta vede pianificare insieme verso un comune obiettivo 15 sindaci storicamente concentrati ognuno sul proprio campanile, Guercio ha descritto le criticità che il nostro territorio quotidianamente vive e ha quindi spiegato perché la strategia locale sta puntando tutto su istruzione, trasporti e sanità. Noi spesso parliamo appunto della questione serissima dello spopolamento, ma a volte abbiamo un po' l'impressione che si voglia a tutti i costi zavorrare il giovane nel territorio di provenienza, che lo si voglia inchiodare a quella che è la sua realtà, ma probabilmente noi dovremmo fare uno sforzo un po' diverso, cioè dovremmo diventare attrattivi come territorio affinché il giovane non solo possa trovare il suo luogo attrattivo, ma addirittura possiamo diventare attrattivi anche per gli altri. Ma se noi non riusciamo a garantire il diritto alla salute delle persone, perché nelle aree interne abbiamo strade, quelle fisiche, non quelle telecomunicazioni, quelle virtuali, ma quelle fisiche che sono rotte e quindi interrompono la viabilità e non riusciamo a portare un paziente, un malato, una persona che subisce un infarto da un paese a un altro e lo dobbiamo poi vedere, abbandonare le sue possibilità in un'ambulanza ferma chissà dove, se noi non riusciamo a garantire questi diritti sacrosanti alla base fondamentale come appunto l'istruzione, la sanità, come possiamo immaginare di vivere in un territorio 4.0 dove naviga a mille la banda larga o abbiamo tutti gli strumenti della telecomunicazione? Quindi forse noi dovremmo, anche perché i nostri piccoli luoghi, i nostri piccoli borghi, le aree interne ci consentono oggi di tornare a una dimensione anche valoriale, mi sia consentito dirlo perché è così, anche valoriale, umana, di tornare a una dimensione più giusta, più equilibrata, più sana per tutto quello che significa il concetto di sanità. Ecco, probabilmente questo deve essere il nostro punto di forza, il punto di partenza e questo, anche con un certo orgoglio, mi sento di dirlo, riesce a declinare quella che è la strategia delle aree interne Vallo di Diano che in questa sede mi onoro di rappresentare. Il tema delle strategie delle aree interne sarà argomento di discussione nel corso del Consiglio Generale della Comunità Montana, indetto dal Presidente della Comunità Montana, Raffaele, accetta per il giorno 5 novembre presso l'Aula Consigliare della sede dell'ente montano alla ovest della Corte Esterna della Certosa di San Lorenzo. L'assiste Consigliare con inizio alle ore 16 e discuterà anche della variazione di bilancio di previsione 2018-2019. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco con il resto delle nostre notizie. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg. Una strada o una piazza intitolata a Maria De Cardona, poetessa vissuta nel Cinquecento, che è stata anche Marchesa di Padula. La proposta è stata protocollata al Comune di Padula dall'Associazione Nova Civitas. Al Comune di Padula è stata protocollata la proposta per intitolare una strada a Maria De Cardona, la nobildonna napoletana che nel Cinquecento è stata anche Marchesa della terra di Padula. La proposta è stata presentata dall'Associazione Nova Civita, si è impegnata a promuovere la storia e la cultura del territorio, con particolare attenzione rivolta verso Padula. Nel cercare quindi di riportare alla luce quella che è una pagina importante del territorio, legata ad una storia in cui il Vallo di Diano è stato anche terra di grande valore, è stato possibile ricostruire le vicende di Maria De Cardona, nobildonna vissuta tra il 1509 e il 1563, importante poetessa napoletana, mecenata e letterata, benefattrice di feudi e comunità. Una donna che incarnò appieno le due grandi virtù del tempo, la grazia e l'erudizione, una personalità importante del rinascimento italiano. Il valore storico-culturale del personaggio, che ha anche ispirato lo scrittore padulese Emilio Sarli per primo ad aver riportato all'attenzione la storia della Marchesa di Padula, con il suo libro La decima musa del Parnaso, Maria De Cardona, conseguendo peraltro anche il primo posto del premio letterario nazionale Mario Soldati, conferito dal prestigioso Centro Pannunzio di Torino, già in passato, grazie all'Associazione Fidapa, ha portato all'intitolazione di una piazzetta a Montesano sulla Marcellana, alla poetessa del Cinquecento. Ora, la stessa proposta arriva a Padula, con un appello accorato rivolto in particolare alle donne dell'amministrazione imparato, affinché si facciano promotrici dell'iniziativa proposta dall'Associazione Nova Civitas, nella persona del presidente Antonio Casella, che lo scorso 22 ottobre ha protocollato la richiesta al comune di Padula per l'intitolazione di una piazza o di una strada a Maria De Cardona, per l'importanza storica, culturale e sociologica del personaggio, che oltre ad essere Marchesa di Padula e del Casale di Buonabitacolo, fu anche contessa di Avellino, baronessa di Candida, signora di Chiusano, duchessa di Bosa in Sardegna e feudataria delle terre di San Mango, Capaccio e Altavilla Silentina. Lunedì 5 novembre, presso l'Aula Consigliare del Comune di Sant'Arsenio, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica consegnerà un'onoreficenza ad Antonio Ippolito, vigile urbano in pensione per il suo centesimo compleanno. La cerimonia avrà inizio alle ore 11 e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Andiamo a Buonabitacolo, si chiuderà il prossimo 1 novembre la terza edizione della Festa della Castagna Buonabitacolo, promossa dall'Associazione Fermento. Buonabitacolo, intanto, successo per le prime due serate. Non è certo mancato il divertimento a Buonabitacolo per la terza edizione della Festa della Castagna promossa dai ragazzi dell'Associazione Fermento Buonabitacolo. Un evento che, vista l'attenta organizzazione e l'impegno profuso dai giovani, raccoglie sempre tanta partecipazione e può oggi essere considerato già appuntamento di rilievo e atteso dell'autunno. Lo scorso fine settimana, Piazza Sandro Epertini a Buonabitacolo gremita per la manifestazione dedicata al tipico frutto autunnale, che è stato possibile degustare in diverse specialità tipiche della tradizione culinaria locale. Intorno alle castagne è stato poi costruito un ricco evento per far divertire la comunità e per rafforzare il senso di unità. Ciò che ha reso grandiosa questa festa, hanno spiegato dall'Associazione Fermento Buonabitacolo, è stata prima di tutto la voglia di divertirsi e di mettersi in gioco, ma soprattutto il desiderio di ricordare un nostro caro amico e membro dell'Associazione Marius Guerra, con qualcosa di bello che tenesse unita tutta la comunità. Solo il maltempo ha fermato il divertimento con l'ultima serata che è stata posticipata al prossimo 1 novembre. Già le prime due serate comunque hanno consentito di raggiungere un grande successo, grazie anche agli artisti che hanno aglietato le serate. Venerdì 26 ottobre la musica popolare salentina è stata protagonista della Festa della Castagna, con i balli e i canti che hanno divertito i tanti partecipanti alla manifestazione. Sabato 27 invece, direttamente da Italia's Got Talent, per allietare la serata gli artisti di strada che hanno impressionato con le loro magie e i loro giochi il folto pubblico. Bilancio più che positivo quindi fin qui per la terza edizione della Festa della Castagna Buonabitacolo, con l'ultima serata in programma per giovedì prossimo 1 novembre, sempre in piazza Sandro Pertini, dove l'associazione Fermento Buonabitacolo è pronta ad accogliere i visitatori per regalare intense ore di divertimento e di sapore. Domenica scorsa a Sassano, nonostante la copiosa pioggia, si è svolta l'ottava edizione della Corsa Podistica delle Sette Cappelle, nata nel 2011 su iniziativa dell'Associazione Solidarietà Sociale in Cammino con Padre Pio. La corsa si è svolta grazie alla collaborazione della RUN Cilento e per la prima volta è patrocinata dalla Fidal Campania. Con partenza alle ore 9.40 i podisti hanno attraversato parte del centro storico toccando le varie cappelle del paese, arrivando davanti al santuario Cappella Cuore Immacolato di Maria di Varco Notare Ercole. Un percorso di 12 chilometri circa, sia per gli uomini che per le donne. Per la cronaca sportiva i vincitori sono stati nella categoria maschile. Cerrone Enrico dell'Atletica Camaldonese, che ha preceduto il compagno di squadra Galiendo Gerardo e Barbella Michele della Cilento RUN. Tra le donne è successo per Picardi Patrizia della Podistica e Laghetto, che ha preceduto Gursan Parente, Giorgia Caterin della Metal Fair Runner e D'Argenio Jean Pierina della SD RUN FOR LIFE. Ma ascoltiamo le interviste realizzate da Pietro Cusati. Quest'anno purtroppo il tempo ci ha penalizzato un poco, però l'entusiasmo di questa gente è grande, grande, grande. Io sono soddisfattissimo e colgo l'occasione pure per ringraziare la Presidente che per sette anni ci ha aiutato a fare questa corsa e l'Associazione della Camadolese, che è stata veramente sempre vicina. Quest'anno abbiamo cambiato un poco, l'anno prossimo ricambieremo perché forse ce la organizziamo da soli e faremo di tutto per portarla ancora più in alto. Quest'anno c'è stato il record degli iscritti, 160 iscritti. Il Vallo risponde sempre perché ci tiene a questa corsa come ci tengo io. Noi siamo orgogliosi e lieti di essere presente quasi fin dall'inizio, da quando è nata questa gara che è diventata poi un memorial in onore di Rosanna Trotta. Noi ogni anno con molta piacevolezza raggiungiamo questa località molto bella per onorare Rosanna e salutare gli amici che la conoscevano. Ci fa estremamente piacere essere qui in questa giornata di sport soprattutto perché sappiamo che questa gara nasce come un memorial e lo facciamo veramente con grande affetto perché conosciamo la famiglia di Rosanna Trotta e sappiamo con quanto garbo riescono sempre a fare questa gara. Siamo ormai affezionati a questo paese ma soprattutto alle persone che ci ospitano sempre con grandissimo grandissimo affetto. E ora il calcio, nel prossimo servizio facciamo il punto su quanto è accaduto nello scorso weekend nei campionati di prima e seconda categoria. Nel campionato di prima categoria Girone F il Sassano mantiene la vetta della classifica non senza soffrire. La formazione del presidente Ricciardone sotto 3 a 1 in casa contro il Real Postiglione trova il pari e il punto che le consente di mantenere la testa della graduatoria seppur in coabitazione con il Golfo di Policastro che Corsaro si impone sul campo delle Rayon. A meno uno dalla vetta la coppia Velina Licinella che battono rispettivamente Rofrano e Alfanese. Vittorie interne importanti per Atletico Pisciotta e Real Bellizzi contro Cicerale e Gregoriana mentre pari a reti bianche tra Procoliano e Real Agropoli. Bene il Real Paolo Monte che al San Biagio trova il primo successo e lascia a quota 0 punti la Polisportiva Marina. Nel campionato di seconda categoria Girone H, seconda sconfitta di fila per il Real Pertosa che cede 2 a 1 sul campo del Castelvernieri non va meglio al Siciniano che viene sconfitto 2 a 0 in casa dal Nadir Oliveto Citra. In testa Real Filetta Pezzano e Prepezzanese le uniche a punteggio pieno. Nel Girone I di seconda categoria cade al debutto in casa il Certosa di Padula contro la Folgore Acquavella che vola in testa alla classifica insieme all'Atletico e al New Massa. male il Real Bianca che perde 7 a 0 sul campo del Novivelia. E termina qui il nostro Tg, io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti